La Liguria ha in tutta chiarezza tre grandi possibilità su cui lanciarsi, possibilità che stiamo già usando anche molto, una è la sua portualità logistica, collegamenti infrastrutturali con la pianura padana, una è la sua bellezza e quindi la capacità di far venire qui turisti da ogni parte del mondo, in questo momento moltissimi sono i russi che vengono e l'altra è tutta quell'esperienza, quel bagaglio industriale che adesso è molto importante qualificare verso l'hightech, un'industria che ovviamente guarda molto attività scientifica e quindi università, CNR, IT e che trova lì a Ezzelli un punto di incrocio fondamentale, appunto Ericsson che aprirà a maggio, poi Simens, poi Esarot e poi speriamo anche tante altre aziende che vengono fuori, anche se quelle che sono qui e si consolidano sono già molto importanti e poi mi auguro infine che lì ci vada a studiare anche i miei giovani colleghi, ingegneri di oggi e di domani, che oggi sono divisi in tanti spazi angusti, il bire nella fiera del mare, poi pezzi qui, pezzi là, che là potrebbero invece trovare una facoltà tutta insieme, tutta unita, con laboratori, vasca navale e soprattutto con la possibilità quasi fisica e quotidiana di dialogare con i loro colleghi più esperti, più adulti, costruendo condottesi, facendo attività di laboratorio, facendo attività di ricerca, anche dentro quelle aziende, con uno scambio che cominci già nei primissimi anni dell'università, che possa proseguire anche successivamente con possibilità di impiego, in quella realtà lì, ma anche costruendo quegli spin-off di giovani laureati che possono rappresentare un punto molto importante di crescita economica per questa città e per questa regione.